Le macerie provocate dal crollo del soffitto ligno della chiesa di Maria Santissima Assunta sono state recuperate da vigili del fuoco intatte le statue raffiguranti Sant'Antonio e Maria Santissima Assunta. I caschi rossi, dopo aver effettuato una verifica di stabilità della struttura, nonostante alcune parti dell'edificio ancora pericolanti, nonostante il rischio, sono riusciti a mettere a sicuro le due opere sacri. Glida al miracolo la comunità di Taurano, particolarmente legata alla santa protettrice del paese. Lo stesso sindaco Salvatore Maffettone parla di prodigio. La chiesa è situata al centro del paese, infatti molto frequentata dai fedeli. Pochi giorni fa sono state celebrate le messe in onore della santa e domani sera il parroco padre Michele era atteso da un'altra funzione religiosa. Fortunatamente nel pomeriggio, intorno alle 15, quando si è verificato il cedimento all'interno della chiesa, non c'era nessuno. Un segnale celeste per i devoti, anche l'integrità delle due statue, nonostante il crollo. La chiesa intanto è stata dichiarata inagibile dai tecnici dei vigili del fuoco. In corso degli accertamenti da parte degli esperti per verificare le cause dello schianto, sul posto sono giunti anche i tecnici della sovrintendenza. Da primi rilievi si è becrollato il telaio di sostegno del solaio. Saranno disposti però degli esami più approfonditi per definire con certezza le cause del cedimento e come intervenire per mettere in sicurezza il soffitto. Intanto la notizia del crollo del solaio della chiesa e il salvataggio delle statue dei due santi ha provocato sconcerto tra i fedeli. Nonostante il maltempo scatenatosi nel pomeriggio nel Vallo di Lauro e la chiesa Off Limits, alcuni dei voti si sono recati presso la parrocchia per verificare cosa fosse accaduto e hanno fatto sentire la loro vicinanza a Don Michele e al sindaco Maffettone. C'è chi dopo aver raggiunto la statua della Maria Santissima Assunta ha unito le mani in segno di preghiera per ringraziare la protettrice del pericolo scampato.